Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi volevo provare una nuova tipologia di video, ovvero quella ASMR A me piace un sacco questa tipologia di video e quindi ho voluto provarla anch'io in maniera un po' diversa Ovvero ho preso una loro surprise, Lil Sisters e le 4 assieme a voi Fatemi sapere che cosa ne pensate e se questa tipologia di video vi può piacere Così ne paro magari altri anche in futuro Allora iniziamo subito a scartare la nostra Lil Qui abbiamo il nostro indizio Secondo strato La pole azzurra Andiamo ad aprire E queste sono tutte le nostre sorpresine Qui abbiamo la lettina E andiamo a vedere che le letterine sono sempre le stesse che abbiamo trovato anche l'altra volta Azzurra Apriamo prima L'anellino Eccolo qui Mettiamo il cranchetto dentro intanto Che carino E le nostre tra sorpresine Quindi abbiamo la nostra Lil e i due accessori Se non avete visto il video precedente vi faccio rivedere la checklist Eccola qui Vediamo un po' Che abbiamo trovato oggi Abbiamo un paio di scarpettine fucse Una borsa bellissima Guardate tutta la tasca Chi con questa striscia fucsia e nera In mezzo E infine andiamo a vedere la nostra Lil All'inizio era Lucky Devil Ed ecco qui la nostra Lil Guardate Quanto è carina E' veramente bellissima Adesso vado a metterla in freezer Così vediamo subito come cambia colore Ed eccola qui I capelli non hanno cambiato colore E' venuta questa tutina E questa specie di magliettina E per il pannolino è diventato a scacchi Penso che si riferisca A La bandiera Quella dello start Nelle corsa delle macchine E' super carina La adoro Lei è Lil Trackraiser Dell'Atletic Club Ed è una comune Lei è una delle nuove LOL Che usciranno nella serie 4 E non vedo l'ora di aprirle Bene anche questo video termina qui Spero che vi sia piaciuto Fatemelo sapere qui sotto In un commentino Lasciando un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E vi mando un bacio Nel prossimo video Ciao Ciao